Lo so che giorno vi ho detto che avrei girato il secondo ShooterHatesQuestions e avrei risposto alle vostre domande Ma non ho voglia, siccome oggi è domenica e fa tanto freddo preferisco rimanere in pigiama e non farmi neanche la barba e neanche i capelli Però in cambio posso... e anche fe... fo...